Vi concentrate sul prossimo esame da fare, volete un 30 a tutti i costi e allora studiate e sudate come se non esistesse nient'altro nella vita. Poi il giorno dell'esame arriva e voi non prendete 30, prendete 27 e il mondo, il vostro mondo quantomeno, va in pezzi. Bene, quella che state sperimentando è una forma di perfezionismo tossico ed è una delle modalità di autosabotaggio più diffuse in assoluto nei percorsi di studio che nei casi peggiori può portare fino al blocco dello studente, una trappola che ho trattato insieme al dottor Bartoletti in un corso importantissimo per il mondo ADC, studente strategico. Andate a dare un'occhiata a studente strategico perché è un corso che ha aiutato veramente tantissime persone. Ma quali sono nello specifico i modi in cui agisce il perfezionismo tossico? Beh, prima di descriverli, prima di descrivere anche tutti gli effetti di questo atteggiamento mentale, dobbiamo capire quando è che il perfezionismo diventa tossico. Che cosa separa una persona che cerca di raggiungere un traguardo con tutte le sue forze, cosa positiva, da una che nel farlo finisce per farsi lo sgambetto da sola, dandosene poi anche tutte le colpe? Parliamoci chiaro, per seguire obiettivi, anche estremamente ambiziosi, essere competitivi, competitive, non è affatto qualcosa di negativo. Al contrario, si tratta di una spinta interna importantissima, che ci serve per conoscere tutto quello che esiste al di fuori della nostra zona di comfort, al di fuori del nostro piccolo orticello di capacità e di conoscenze pregresse. Ma per farlo in modo sano e funzionale, dobbiamo anche accettare l'eventualità di alcune battute di arresto, di incertezze e, perché no, anche di fallimenti durante il percorso o delusioni. Troppo spesso, però, è proprio questo meccanismo che si inceppa. E si finisce per pretendere di più. Vogliamo da noi stessi sempre performance migliori, risultati migliori, più impegno, più sforzo, più fatica, più successo, più tutto. Ed è così che si finisce nel tunnel del perfezionismo tossico, un tunnel in cui non vengono ammessi errori né incertezze. Non ci si può più permettere di sbagliare, neppure se questo porterà ad una consapevolezza maggiore. No, al perfezionismo tossico non gliene sbatte niente, a lui importa solo una cosa, la perfezione, la mancanza di sbavature. Bisogna essere impeccabili, sempre, a qualsiasi costo. Una situazione o è bianca o è nera. Un risultato o è eccellente oppure è un fallimento terribile. Una vergogna. O vinci o perdi. Chi si lascia trascinare da questo modo di pensare non riesce mai e poi mai ad avere un po' di soddisfazione. Si vergogna dei propri risultati e non riesce a cogliere veramente la portata di quello che ha imparato dalle proprie esperienze. Gli standard autoimposti o imposti dalla società, dalle pressioni che ci arrivano dall'esterno, diventano così alte che raggiungerli è sempre un po' più difficile, fino a diventare impossibile. Nello studio questo può voler dire che non ci si presenta all'esame finché non si ha la certezza di sapere esporre in modo perfetto ogni cosa, ogni capitolo, ogni paragrafo, ogni virgola. E se ve lo state chiedendo, no, questa certezza non ce l'avrete mai. Non esiste un modo al mondo per ottenerla, neanche col miglior metodo di studio di tutti i tempi. Oppure può significare rifiutare ogni voto che non sia quello che avevamo in mente sin dall'inizio. Ossessionarsi con la media. Oppure chiudersi in casa e non uscire mai perché devo studiare in ogni minuto della mia giornata, altrimenti non riuscirò a performare come voglio. Può voler dire persino voler annullare la festa di laurea quando il voto finale non è all'altezza delle nostre aspettative, perché magari manca la lode. Oppure è 108 invece di 110. Oppure provare rabbia, vergogna, incazzatura con noi stessi, con noi stesse, perché ci sono compagni e compagne che studiano più velocemente, che passano gli esami prima, che prendono voti più alti. Quante volte vi è capitato di ragionare in questo modo? A me, personalmente, molte. Forse un po' troppe. Nel libro Pursuit of Perfect vengono descritte le tre grandi trappole tese proprio dal perfezionismo tossico. Conoscerle è fondamentale per capire meglio questo meccanismo in cui tutti e tutte abbiamo rischiato di imbarcarci prima o poi, specialmente se siamo persone ambiziose, competitive e coscienziose. L'autore del libro è Talben Shahar, un docente universitario di psicologia positiva che ha tenuto i famosi corsi sulla scienza della felicità ad Harvard. Ecco, secondo lui, i mali del perfezionismo sono questi. Prima di tutto il rifiuto del fallimento. Come dicevamo, nel perfezionismo tossico non si ammette mai il fallimento, ma per evitare di fallire c'è solo una soluzione, se ci pensate. Non fare niente. Così, quando si intravede la possibilità di non raggiungere la perfezione assoluta, ci si blocca. Esattamente il meccanismo che descrive il dottor Bartoletti in Studente Strategico, quando individua nel perfezionismo tossico una delle motivazioni più importanti alla base proprio del blocco dello studente. E poi due, il rifiuto delle emozioni negative. Per chi è a caccia di perfezione, esiste un solo modo di lavorare o di studiare, inanellando una buona giornata dopo l'altra. Vi alzate, vi sentite a mille, con l'energia sempre ai massimi livelli e una motivazione indistruttibile. Niente vi deve scalfire. E poi alla prima occasione in cui vi sentite vacillare leggermente, niente. Tutto perso. Automaticamente cominciate a pensare di aver sbagliato qualcosa, interiorizzate un senso di colpa. Pensate di non starvi impegnando abbastanza, magari. O pensate di non essere abbastanza forti, abbastanza intelligenti, abbastanza portati, portate per lo studio, per arrivare al traguardo. Ci ho preso? E infine tre, il rifiuto dei successi. Eh sì, perché l'insoddisfazione è la fedele compagna del perfezionista. Poco importa quello che riuscite a fare, godere dei successi, grandi o piccoli che siano, è impossibile. Avete presente Sisypho? Quel tizio del mito greco che fece incazzare gli dèi e per punizione fu costretto a spingere un enorme masso fino alla cima di un monte. Ecco, Sisypho arrivava in vetta e poi il masso rotolava giù e lui doveva ricominciare da zero. E doveva andare avanti così per l'eternità. Ecco, questo è quello che vi costringe a fare il perfezionismo. E lo fa in due modi. Costringendovi ad ad aderire a degli standard assurdi che non hanno nulla di oggettivo e sono quasi impossibili da raggiungere e portandovi a sminuire sempre e comunque tutto quello che avete ottenuto. Imparare a contrastare questo perfezionismo tossico significa soprattutto imparare ad essere meno inflessibili, più gentili. Più gentili con noi stessi, con noi stessi, certo, ma anche con gli altri, con le altre. Ricordate il discorso che facevamo quando abbiamo discusso del caso di Benedetta Pilato alle Olimpiadi? La nuotatrice, quella che è arrivata quarta? Recuperate il video in cui ne parlavo. Quando si pretende la perfezione lo si fa sempre e comunque. Ed ecco che qui diventa fondamentale un concetto che il mio amico, divulgatore, psicologo incredibile Gennaro Romagnoli ha portato qualche tempo fa in questo canale e che poi è diventato parte di un discorso più ampio sugli atteggiamenti mentali che ci permettono di impegnarci in modo sostenibile. Sto parlando ovviamente della self-kindness. Gennaro l'ha spiegata molto bene in questo video che abbiamo fatto insieme. E per evitare di diventare dei giudicatori cattivissimi della nostra stessa condotta ci sono un paio di cose su cui possiamo ragionare. Pensate a tutte quelle cose a cui avete rinunciato per paura di fallire. Magari avete sostituito un esame che vi interessava molto con un altro solo perché avevate paura di non riuscire a prendere il massimo dei voti. Oppure non avete chiesto la tesi al professore o alla professoressa di cui ammirate il lavoro solo per paura del rifiuto. Ecco, prendete una di queste cose e provate ad affrontarla, semplicemente. E pensate anche a tutte quelle occasioni in cui non avevate nessuna voglia di studiare. Magari perché avevate avuto una giornata pessima, eppure avete aperto il libro lo stesso. E siete andati avanti, anche se per poco, anche se non al massimo delle vostre possibilità. Lo avete fatto, nonostante il malumore, le incazzature, la noia. Non è che vi siete trasformati, trasformati in piccoli soli luminosi durante gli anni di scuola e di università. Anzi, la maggior parte delle volte avete avuto voglia di fare il tiro al bersaglio con le foto dei prof. Lo so io e lo sapete voi. Quindi non ascoltate quando il perfezionismo cerca di convincervi che se non siete sempre al massimo è perché state sbagliando qualcosa. No, siete semplicemente degli esseri umani. Fate un bel elenco di tutti gli obiettivi che avete raggiunto e non date niente per scontato. Non pensate necessariamente a traguardi enormi, come la laurea. Ma pensate anche a singole sessioni e andate come programmato. Esami che vi sembravano complicatissimi e che avete superato. Momenti della vostra vita in cui avete ottenuto qualche cosa che non vi aspettavate. Argomenti che all'inizio pensavate fossero incomprensibili e che invece poi avete approfondito con interesse. Così tanto da averli scolpiti nel vostro cervello. Troppo spesso si tende a dare tutto per scontato a sminuire le cose positive che abbiamo ottenuto e a non guardarle per quello che sono. Successi. Successi piccoli, ma significativi. Ultimissimo consiglio. Cambiate prospettiva. C'è sempre un modo differente di leggere quello che ci sembra un fallimento gravissimo nel nostro percorso. Piuttosto potremmo considerare queste occasioni come un male necessario per individuare un problema e imparare nuovi modi per risolverlo. Dimenticate il perfezionismo e sostituitelo con l'eccellenza che è il punto d'incontro tra la qualità, l'efficienza e la sostenibilità. Buono studio. Grazie a tutti.